La giunta comunale di Pettineo in attuazione del decreto legge 73 del 2021 ha destinato oltre 35.000 euro per agevolare le famiglie dei residenti nel piccolo centro colpite dall'emergenza sanitaria degli ultimi due anni. Gran parte della somma, oltre 26.000 euro, verrà destinata all'agevolazione e riduzione della Tari anche per le utenze domestiche. L'abbattimento sarà totale per i cittadini che hanno un ISEE non superiore a 5.000 euro mentre le ulteriori risorse disponibili serviranno per la concessione dei buoni spese alle famiglie maggiormente colpite dall'emergenza e che versano in stato di bisogno per un importo di oltre 7.000 euro. Inoltre altri 2.000 euro sono stati riservati alle famiglie con figli che utilizzano il servizio di rifezione scolastica. La misura di solidarietà e di aiuto era stata già concessa per l'anno 2020. I termini e le modalità saranno stabiliti a breve con un apposito bando che verrà predisposto dall'ufficio servizi sociali e che verrà pubblicato sul sito del comune di Pettineo. L'approvazione della delibera è un atto concreto che offre un aiuto tangibile alle famiglie che stanno soffrendo a causa della pandemia e delle conseguenze economiche e sociali che essa sta avendo in tutto il mondo, dichiara il sindaco Domenico Ruffino. In particolar modo vogliamo alleviare le ripercussioni che la crisi sta avendo sul nostro territorio. Per questo negli ultimi due anni abbiamo profuso ogni sforzo per cercare di rimanere vicini alle famiglie e agli imprenditori di Pettineo. Consapevoli comunque che non abbiamo fatto nulla di speciale, ma solo quello che viene richiesto dai cittadini è che ha il compito di amministrare una comunità. I provvedimenti adottati, a cui a breve seguirà quello per il riconoscimento dei contributi alle attività commerciali, rappresentano e dimostrano l'impronta della nostra politica e di quanto sia importante e fondamentale per la nostra amministrazione il rilancio economico e il benessere sociale dei nostri cittadini e delle nostre imprese.